Episodio 31 E basta Salve a tutti e benvenuti in questo 31esimo episodio di FIFA Carriera Allenatore Siamo pronti per andare contro la Lazia in modalità Campione con Filippo Giacoletti Anche se mi avete detto di andare a giocarci in modalità esperto Adesso da ora in poi Però visto che adesso ho incominciato con modalità campione Continuiamo così Vi divertivate molto di più quando gioco in modalità esperto Per questo mi avete detto di mettere modalità esperto Ma io non ho messo in modalità esperto Perché voglio fare il bravo professionista che riesca a giocare anche senza modalità esperto Non so se avete capito Perché io no e quindi spiegatemelo In tutti i casi modalità campione Insegne 4 gol nelle ultime partite Sarà un osso durissimo la Lazio Wow 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 Grazie E via di te No 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 Insegne di testa salva Sanella gioca pallonetto per Embolo 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 saluga il pallone Embolo 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 E dai rigore Calcio di rigore Rosso E andiamo Insegne 1 a 0 Fenomeno Anche su rigore No ridatemi la palla da bravi bambini Ridatemi la palla Ridatemi la palla ho detto No 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 Nardi Che cosa ha fatto No 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 Nardi Ed è 1 a 1 E mi dia passa per Embolo No 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 Nardi Via 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 Nardi No 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 E finisce il primo tempo 1 a 1 Non è facile per niente No 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 Uuuuh 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 No 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 Nardi Zappacosta la crossa al centro per nessuno Pallone per Insegne Insegne Pallone giocato per Embolo Il contropiede Embolo 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 2 a 1 A settantesimo Sto facendo di una fatica Che non immaginate Dobbiamo resistere Cosa che non sono per niente bravo a fare Velotti la crossa al centro per Embolo E vinciamo 2 a 1 E andiamo Che razza di fatica immonda Ma yes E ora siamo contro l'Udinese Ok Embolo è salita 79 Dccba Oh c'è la nazionale Amichevoli internazionali Nah non le giochiamo Vinciamo 3 a 0 Contro i Galles Cdcdc Francia Egitto E vinciamo 1 a 0 Siamo ottavi Contro l'Udinese prima Ok Torino Udinese Modalità campione con Gustavo Pollogna e i rovesci Ai 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 Ma noi siamo forti Siamo potenti Siamo cinesi Vabbè giochiamo e che bello Miglior difesa Oh 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 Cos'è che stilabitacco Sannella passa in qualche modo Niang Che cos'era Zappacosta battecaccia all'angolo Niang 1 a 0 Mister Cristina Brutta Segni Menomenale A qualcuno ciondola il primo posto No 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 Forse dovevo stare zitto Niang la crossa al centro Ci arriva Kennedy Ancora di testa 2 a 0 Contro la prima in classifica Kennedy la crossa al centro Di testa E finisce il primo tempo 2 a 0 Non per dire 2 a 0 Prendigli la palla Prendigli la palla Prendigli la palla Adesso che non avete più zapatta Non fate più gli sboroni Quello ne è crossato Per embolo Non ci arriva E qua è rigore signori Ma dai Ci prova Crossa a Cetronardi Accacchiato Accacchiato Beh logicamente non è che fenomenale E vinciamo 2 a 1 Di nuovo Vinco sempre per un pelo del cuo Però vinco Abiaci È bellissimo Sanè sale a 78 E beile a 77 Va benissimo Siamo contro la prima in classifica Come embolo è squalificato Niang punta Torino Olimpiaco Schufe Arbitro Jan Lowcroft Giochiamo in modalità campione Yeah Non facciamo cacchiate No 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 Uh Va bene anche un pareggio Sarebbe bene una vittoria Ma ma Accontentiamoci Niang la crossa Per Kennedy Pallone passata Belotti la passa Per insegne Insigne 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 No Pallone passato Kennedy Belotti No Che cosa ha parato E che cosa ha fatto Belotti E finisce il primo tempo 0 a 0 Kennedy La ricrossa In centro Per Niang Ci arriva No Sì Belotti Non ha segnato nel primo Ma adesso sì Come mi sto divertendo Non avete idea Capire di avere le capacità Di giocare in modalità Campione E far questi risultati Mi piace No è morto Perez Esordio di Martella Martella ha dei strani capelli No che be Che cosa Insigne Recupera il pallone Insigne La gioca benissimo Il pallone per Martinez Appena entrato Martinez La passa per Obi 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 Ha penetrato anche lui 2 a 0 Fenomenali Che pallone di ma Che gol Mamma mia Ai 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 Che bella Che bella Nardi Ai 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 Ed ecco il duo Eccolo qua E finisce 2 a 1 Ancora Ma va bene Perez fuori 4 settimane Dovrà giocare in Martella Eh un giorno è poi partita E un politorino Con Gustavo Polloni In modalità ispetto Si gioca E continuo a ripetersi Di ste cose Finuo alla morte Continuo a dirlo Comunque mi avete detto Compra Messi E ti do un milione di iscritti E non riesco Non ad arrivare A un milione di iscritti A comprare Messi Guarda Martella Sembra uscito dal cartone animato Degli anni 90 Kennedy la cross al centro Ci arriva Embolo Parata Martella Grandissimo Martella Martella Lo ammazza Martella Con un braccio C'è il cognome di Martella Adesso sarà pneumatico No 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 Ah sei fortunato Alex Finisce il primo tempo 0 a 0 Attenzione Niang la cross al centro Ci arriva di testa In segno E no Sulla rega No 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 Nardi E finisce 0 a 0 Porca la miseria Ma va bene Grazie a tutti per avervi visto Io sono XM77 Spero che questo video vi sia piaciuto Siamo sesti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti